Siamo tornati su Bendy and Ink Machine, finalmente nel capitolo 2, ovvero la vecchia canzone. Noi eravamo rimasti che c'era il rito satanico e siamo svenuti. Ah, e c'era Bendy anche. Ok, abbiamo ancora la nostra ascia. L'obiettivo qual è? Ti serve un'uscita, un'ascia può aiutare l'ascia. Siamo nell'unità, assi 9, lui ci renderà liberi. Chi Bendy? Qui c'è della zuppa. Giusto, posso prendere? Sì. Buona, scommetto. Sì, oh, qui c'è un registratore. Di Sammy Lawrence. Lui apparisce dalle ombre. Appare? Vabbè. Vuole che Bendy lo liberi? Che senso? Bendy è colpa tua. Spero che ciò che ho fatto non abbia effetti sulla storia. Non c'è più pezzi a terra. Cosa qua? Va bene. Adesso deve stare un bug. Ma c'è qualcuno lì? Non credo che ti puoi... Vediamo se era un bug quello. No, non era un bug. Volevo attivare tre cose di energia. Uno che è questo qua. Che ho visto prima. Già come ho visto. Ok. A cui c'è un altro. e poi ecco facile sono ancora poi tantissimo orrore parte bene il boris mortoli boris giusto si passa qui c'è un muro invisibile fatto dai atti vieni bene sono pronto a tutto che ho anche un'arma vieni bendy vieni non c'è bendy ma queste sbarre non promettono niente niente di buono sbattimento di musica cd semi lorenz sempre a noi quanto pare quello che faceva le musiche per il cartone di bandy in effetti esca le sono giuse qui c'è una leva forse quella leva no se ci sarà luce ho visto che cosa succede ho visto una coppa oddio perché comincerò la gara un'altra volta grazie combattimento poi doveva la gara è sentita un gioco vero e proprio se horror horror ma più che altro ora ragga però ora no ora no prima si ora no questo mi ha già preso un colpo questo si apre no no vediamo eh qua una seconda ancora basta basta è fastidioso è molto inquietante è la musica almeno dai ok savola da ping pong una savola da ping pong si c'è un bandy lì il proiettore un cartone di bandy ok normal di norman polk si 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 nessuno parla bene di semi lorenz cioè non c'è in senso che è un po' a passo poi le mie chi vuole essere salvato da bandy quindi lui accendeva un media preso in un forte questa cosa che cos'è ecco qua eh aperto c'è una non a me la non a me gli organi non sono mai mai piaciuti è la infermeria che è chiusa perfetto questo è il posto ovviamente di che posto è da sempre uno studio di musica comunque qui c'è un bandy l'ufficio di semi lorenz si è il direttore del partimento musicale e lì c'è la cosa da una pompa il tempo di essere liberi no 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 wally franks ok dobbiamo trovare le chiavi giusto aprile quarta roba di wally e qui c'è quarta roba ok infatti chiuso dobbiamo trovare la chiave la chiave sarà ovviamente a questo per salvare in caso qualcuno non lo qualcuno non sapesse infatti qualche salva il tuo lavoro per l'altra salva la tua partita dei bidoni io dove li trovo i bidoni qui in media non c'è niente ho preso un colpo questi maledetti orologio qua no qua non possiamo andare perché ovviamente l'uscita casualmente è bloccata c'è un secchio qui però è vuoto dietro c'è qualcosa tra l'altro la bacon soup the acting side of hell the redactor side of hell qualcosa della luce dell'inferno quanto qui tipo il lucente qualcosa dell'inferno side non so che cazzo oggi lì c'erano ben di solo prima aspetta un attimo no non sono aumentati i bendi stavolta non ho visto qui in sala della registrazione però qui c'è un bidone e qui ci sono le chiavi i bendi qui non ci sono perché sono lì adesso i bendi che bello anzi che bendi vabbè era molto squalida registratore sui campbell a lei la persona che aveva alice l'angelo ok ho trovato le chiavi quindi adesso andiamo a vedere il coso l'armadietto lì guarderoba guarda roba registratore zuppa oh quanto basso ben gioviolino pianoforte e c'è credo di aver capito tra basso ben raszam non mi ricordo già più ho capito una cosa contrabbasso ben gioviolino pianoforte contrabbasso ben gioviolino pianoforte sopra contrabbasso diceva che se mi lorenzo a te al pianoforte ne ha a fare una cosa che devo suonare in ordine il pianoforte banjo contrabbando banjo violino pianoforte trovo la sala di musica però bianes che si spegne no non è dai mi ho perso di qua ecco perfetto prima che si spegnerà contrabbasso che è quello lì l'ho visto contrabbasso banjo eccolo violino eccolo ho visto pianoforte trasmetto proiettore no riattivare fare più in fretta stavolta cavolo ma devo correre corri contrabbasso banjo violino il pianoforte sì quindi ha si aperto questo internazionario ok ben di sono pronto non c'è ben di però c'è lì tu satanica single happy sangue questo ok flusso ecco ti premi però non uno sotto o nemmeno una valvola l'ho visto no 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 perché mi lagga nei combattimenti che non ho qua è un'arma fortissima che fa un one shot questa per fortuna e ora qui è finito il tutto oggetto di inchiostro no c'è ancora dove l'altra valvola salviamo per sicurezza sì un'altra valvola dove le scale qua si sono fatte no le scale non è successo niente fermeria si è liberata l'infermeria no lo sapevo visto inchiostro visto tanto inchiostro sapevo qualcosa sarebbe spuntato non ciò che ne arriverà un altro ah qui c'è utilità d'accesso ah si è aperto qui ok negrata ok no ci posso andare qui ma io non ci voglio andare c'è qualcuno ha la valvola in mano ma maledetto dammi la valvola senti sono armato ok registratore infatti ah ok jack fine ok uno che conto pari ha allo studio qui in mezzo proprio è proprio è molto sfortunato ciao bendy dammi la valvola si nasconde si nasconde cosa fa su ok ok ho capito no eh ho visto maledetto lag il posto giù ok adesso giù no no ancora devo riuscire a mandarlo lì sotto vai lì sotto devi andare lì ora è perfetto ah mi dispiace tutta la valvola nomada avi quindi valvola ah sì vabbè un bel cappello che non passa più di qua mo dai no ma dai dammi una mano ok ok bendy mi ha dato una mano stavolta io sono contento ok la valvola andava nell'infermeria cioè qua adesso adesso la valvola del flusno la leva del che torna la leva del qualcosa di qua di qua la leva della pompa adesso quindi posso andare all'uscita salviamo salviamo no che è successo? mi hanno colpito chi è tu? chi sei? è quello di prima che si è preso accartonato si è fatto una maschera è Sammy Lorenz si no tu non vuoi uccidermi infatti vero? si sono sono Harry mi sembra che ero Harry si si ma perché non ti uccidi tu visto che sei un matto in effetti al corpo fatto completamente di inchiostro quindi come come è fatto a metterti la maschera ok così si si no questo è per il prossimo episodio ciao